benvenuti a questa puntata speciale di libri streaming speciale per diversi motivi e ne parleremo nel corso della puntata infatti voglio innanzitutto ricordarvi che con il mese di maggio anche l'associazione comunica ha deciso di aderire alla grandissima iniziativa ministeriale del maggio dei libri un'iniziativa che va avanti da dieci anni e quest'anno anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo in direzione della del nostro amore per la lettura infatti devo ricordare che libri streaming è un format dell'associazione comunica che è dedicato esclusivamente alla lettura ai libri e quindi cerca di promuovere l'amore per la lettura e in questo caso proprio per il maggio dei libri abbiamo deciso di lanciare un hashtag ti leggo una pagina per cercare di coinvolgere lettori e scrittori in una iniziativa che vuole fare rete quindi vuole permettere a ognuno di sentirsi protagonista in una lettura scelta liberamente e quindi partecipare al maggio dei libri partecipare alla nostra iniziativa che vuole sottolineare quanto sia importante leggere quanto sia bello aprire la propria mente attraverso la lettura in questa puntata speciale vogliamo andare con ordine perché abbiamo parlato di libri streaming di ti leggo una pagina ma libri streaming è un format dell'associazione comunica e chi se non il presidente dell'associazione può darci qualche cenno storico proprio sulla nascita dell'associazione comunica ecco perché siamo in collegamento con walter bagnaldi ciao walter ciao buonasera a voi buonasera a tutti è un piacere averti qui con noi vorrei dare proprio a te questo spazio perché se il presidente dell'associazione comunica e puoi raccontare a tutti coloro che ci seguono come nata con quali intenti e come si è sviluppata a te la parola walter grazie mi dai l'opportunità prima di tutto perché questa è anche un'occasione proprio in questi giorni noi festeggiamo l'ottavo anno di attività di questa associazione nata nel 2012 è nata principalmente per perché era nato prima un altro progetto che era una web tv valevitria live channel da un'idea mia e di e di e di antonio vinci dall'idea di far conoscere oltre i nostri stessi confini il il territorio io intorno venivamo dall'esperienza con tv locali che per questioni ovviamente tecniche insomma irradiavano il proprio segnale in un territorio limitato valeditria live channel è nata dieci anni fa anche in questi giorni ricorre l'anniversario anche di valeditria live channel una serie di coincidenze proprio del mese di maggio che ho già appena iniziato e quindi questa necessità abbiamo ritenuto opportuno di partire dieci anni fa eh con lo streaming allora era veramente eravamo veramente in pochissimi a fare lo lo streaming eh per portare ripeto fuori eh dei nostri confini il nostro territorio ed era già nata la collaborazione con alcune eh associazioni con per esempio l'accademia d'acutizia con eh l'associazione del paese delle contrade eh con il salotto culturale palazzo recupero eh perché organizzavano delle eh manifestazioni eh e per noi era importante proprio portare eh quanto più lontano possibile questa questi messaggi queste tradizioni e l'esibizione di artisti ma tutto ovviamente raccontava il nostro eh territorio poi è nata l'esigenza di eh legare a valeditria live channel un'associazione eh che insomma gestisse questa eh questa web tv il regolamento non era preciso insomma non è non è ancora nemmeno preciso adesso però noi per evitare qualsiasi problema per poterci mettere insomma il più regola possibile abbiamo così fatto nascere l'associazione comunica per questa esigenza ma ovviamente anche per avere la possibilità di essere una associazione culturale con questo preciso eh intento e quindi legarlo anche alla vita della web web tv eh devo dire che a differenza di quello che succedeva prima non siamo stati i primissimi non siamo stati gli unici però su eh Martina Franca abbiamo collaborato con altre associazioni alla realizzazione di eh di eventi quindi la possibilità era proprio quello a cui facevi riferimento tu fare le rete ma comunque mettersi insieme eh insomma è è possibile assolutamente possibile e eh sono convinto possono venire fuori delle cose eh fatte molto molto bene è molto bene noi per esempio abbiamo anche eh realizzato abbiamo anche fatto all'inizio le le prime edizioni del festival dell'immagine per esempio mentre adesso le serate eh finali le abbiamo e non in alcune occasioni non solo le serate finali le abbiamo mandate in in diretta con l'associazione comunica e con Valedite Live Challenge e questo perché perché c'era la partecipazione di tanti artisti non solo del nostro territorio ma anche fuori dal nostro territorio e quindi almeno avere la possibilità con loro che eh non potevano magari essere per esempio Martina Franca in occasione delle delle serate conclusive delle serate finali avere la possibilità almeno di condividere quest'atto finale di questo festival che poi è cresciuto organizzato benissimo e eccetera eccetera e noi davamo il nostro minimo contributo poi ovviamente la vita dell'associazione e la vita di Valedite Live Channel eh sì cambiata perché prima è stata una web tv abbiamo superato eh un milione e mezzo di contatti con una bella soddisfazione sì sì esatto sono sono stati sicuramente dei numeri molto importanti ti ripeto noi siamo partiti con lo stream dieci anni fa esatto e in quel periodo erano in pochissimi a farlo adesso anche eh la tecnologia ha fatto altri passi ulteriori insomma adesso anche i ragazzi giovanissimi sono in grado di farlo lo si può fare esatto questo è un po' più semplificato rispetto però ecco questa era l'idea ed è ancora l'idea tra l'altro tu hai fatto riferimento giustamente a a questa al supporto di questo di questo progetto del maggio dei libri e ti ringrazio prima di tutto perché come associazione comunica e quindi anche come Valedite Live Channel nelle prime insomma nei primi eh eventi che avete creato ma qui ho avuto soltanto il piacere di ospitarvi il merito è stato tutto tuo Cinzia e di eh di Antonio perché abbiamo condiviso anche le prime puntate di eh libri in streaming e che poi continua e tra l'altro devo anche ringraziarvi perché mi avete voluto coinvolgere anche in questo ultimo eh progetto io ehm molto volentieri ho eh dato il mio modesto contributo indegnamente devo dire ma ho accettato molto volentieri che questa aveva una bella idea ma senza l'associazione non avremmo avuto nessuna possibilità di fare nulla perché eh come dicevamo prima no c'è una base solida che questa associazione comunica che quindi ehm è da anni che eh collabora quindi non non è una improvvisazione diciamo così quindi una struttura solida alla base e eh solo se c'è eh questa solidità secondo me le idee possono prendere piede e quindi libri streaming è nato perché c'è questo supporto c'è un presidente che ci accompagna e diciamo ci dà il contributo attivo anche in ti leggo una pagina abbiamo avuto la possibilità di ascoltare una tua lettura e a proposito di questa nostra rubrica ti leggo una pagina devo dire che stiamo avendo delle soddisfazioni immense perché c'è una partecipazione eh di pubblico elevata quindi significa che l'iniziativa è stata approvata anche da dai lettori dagli scrittori che anzi ci contattano per poter partecipare io penso che una goccia eh del nostro impegno eh sia di un valore grandissimo no all'interno della cultura in un senso più ampio è proprio perché l'associazione è culturale io direi che qualsiasi iniziativa in questo senso sia da promuovere assolutamente sì noi non siamo partiti con grandi proclami ma ci siamo messi subito al lavoro per questa per questa necessità continuiamo a farlo abbiamo tutta la voglia di continuare a farlo grazie anche alla vitalità e soprattutto a queste idee che voi avete fortemente voluto e che state continuando a portare avanti a proposito di questo mi sembra di aver visto altri già oltre credo una settantina di lettrici e di e che so che altri ce ne ce ne saranno ancora e che ovviamente anche nel mese di maggio questo questo discorso eh proseguirà e ci stiamo rendendo conto eh dei dei risultati e del seguito come dicevi tu quindi questo fa assolutamente ancora ulteriore piacere. Io volevo chiederti se c'è qualche aneddoto che vuoi raccontare un po' che ci sta seguendo no? Legato all'associazione comunica visto che stiamo eh ripercorrendo un po' a ritroso no? La nascita di questa associazione. Chi meglio di te e di Antonio potrebbero raccontarci? Sì sì ce ne sono alcune Cenzia perché eh ce ne sono tanti ma ehm provo a ricordarne alcuni eh ripeto ehm la vita è molto parallela tra le due realtà tra Validita Live Channel e l'associazione comunica eh l'associazione comunica ha sostenuto proprio la vita di eh di eh di Validita Live Channel all'inizio e e poi ha proseguito con l'organizzazione di altre manifestazioni o raccontando le manifestazioni organizzate da altri in collaborazione con con altre associazioni ovviamente ehm per esempio ricordo all'inizio proprio una delle delle primissime cose che abbiamo fatto forse era il duemila il duemila undici quindi esisteva già Validita Live Channel e avevamo già in mente di far nascere anche eh l'associazione comunica che poi infatti è nata nel duemila dodici eh ricordo come accennavo prima eh tra l'altro mi preme a sottolineare che insomma c'è stato chi eh Antonio se lo ricorda benissimo ci scambiava per marziani ci credeva dei pazzi eh lo ricordo anch'io questo sì perché noi facevamo eh degli identi e per raccontarli al meglio eh facevamo anche eh delle riprese in diretta con più telecamere quindi montavamo due tre telecamere più la regia e quindi persone si incuriosivano sembrava una cosa strana mi ricordo una delle prime cose che abbiamo fatto era una delle prove del palio delle contrade organizzato dall'associazione il paese sì sì c'era in quella occasione un gruppo di turisti polacchi che era riuscito a sapere di questa eh di questa manifestazione da organizzata da questa associazione ed era venuta a seguirla ehm subito si sono incuriositi perché noi ovviamente per rispettare tutte le norme insomma di sicurezza avevamo protetto tutti i cavi eccetera eccetera però le telecamere erano visibili ovviamente quindi si sono incuriositi e una signora che parlava bene tra l'altro l'italiano mi aveva chiesto se eh stavamo realizzando qualcosa per qualche televisione e quando sarebbe stato possibile rivedere il posto dove eccetera le ho spiegato che invece eh avremmo mandato tutto in diretta e che bastava una connessione internet eh per poterlo vedere in qualsiasi parte del mondo e quindi poi mi aveva chiesto il link insomma per poterlo seguire poi era finita lì la cosa la manifestazione era iniziata quindi io ho seguito ovviamente per raccontare insomma a chi ci seguiva in femmine ehm e dopo c'è stata una parte insomma non ricordo per perché forse per un discorso tecnico serviva forse cambiare le batterie del microfono che io fosse stato proprio Antonio a chiamare e mi sono avvicinato la parte dove insomma il pubblico poteva essere più vicino la signora mi ha chiamato e io mi sono andato e mi ha detto ma 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 è tutto vero in quel momento non ci ho pensato e ho chiesto ma che cosa signora mi dice no no è tutto vero perché mia mia sorella se non ho detto male mi ha mi ha visto e mi ha detto anche come sono vestita quindi vuol dire che mi ha visto veramente ma per piacere quindi era anche un come come dire una gratificazione perché questo ovviamente era un primo primo test di verifica diretta eh noi lo sapevamo ovviamente Antonio di regia aveva il ritorno di quello che facevamo però sai di primo a chitto la gente insomma non 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 un altro episodio brevissimo questo e poi anche ti dimostra come fosse scettica la gente abbiamo visto una persona che era presente in due tre manifestazioni sempre tra i primi venti che noi seguivamo anche lui si incuriosiva veniva a vedere le telecamere abbiamo detto la prima volta più o meno quello che facevamo hanno fatto un po' la faccia storta come dire non credo ma è verissimo questo Antonio sa chi mi riferisco e poi in un'altra manifestazione invece lui si è proprio avvicinato ha detto ragazzi mi piace quello che fate voglio darvi una mano questo poi è diventato un amico si chiama Martino e poi ci ha seguito almeno due tre circostanze successive ci ha proprio dato una mano pratica insomma a montare l'attrezzatura a fare delle cose poi ci sono delle persone che dicevo questo è un po' insomma che all'inizio non credevano ma è normale sì sì perché dieci anni fa lo streaming non è una realtà così diffusa però ci sono devo dire anche degli amici che invece hanno creduto immediatamente nel nostro progetto uno fra tutti che ci aiuta anche adesso ci dà un preziosissimo aiuto nella realizzazione di alcune dirette è un preziosissimo collaboratore che ha creduto in noi e che fa parte dell'associazione comunica da un amico della Costituzione in alcune dirette ci ha dato anche una mano Giuseppe Paldisano anche Luigi Nardelli come dicevo prima questo stesso Martino Baccaro poi anche insomma anche altri e poi piano piano insomma ci hanno creduto un po' di più ma questa è la dimostrazione che serve la capabilità serve crederci veramente perché solo credendoci siete arrivati poi a portare avanti questo progetto che era solamente un desiderio quello di creare una web tv da web tv siamo passati poi a un'associazione vera e propria quindi dalla micro web tv siamo passati a un'associazione vera e propria e ora siamo in continua evoluzione questo è il bello dell'associazione alla fine essere in continua evoluzione al passo con i tempi e quindi cercare di portare avanti gli ideali che ci siamo preposti sempre con più forza con più coraggio perché come dicevi tu Walter siamo tante associazioni ma ciò che più conta è questo sia collaborare solamente collaborando mettendo insieme le forze si va lontano non ha senso dire no io sono più bravo io vengo prima di te io faccio più cose no siamo tutte associazioni culturali quindi tutte siamo allo stesso livello ed è questa è una cosa bellissima io ti ringrazio perché come presidente ci dai questo impulso questo sostegno di continuare a crederci io se mi permetti voglio raccontare un altro aneddoto che è stata una bella dimostrazione ma lo dico perché questi erano per noi dei piccoli incoraggiamenti proprio quello che dicevi tu un attimo fa ad andare avanti per la verità ci abbiamo creduto da subito siamo andati avanti Antonio ha fatto degli esperimenti tecnici quando veramente c'è anche a loro qualcosa che potesse dare un suggerimento poi sono venuti adesso ripeto in ausilio il software la tecnologia che proprio ti semplifica tutto fai un click e tutto parte mi fa piacere ricordare prima di tutto una persona che adesso non c'è più che l'avvocato Marangi che ha scritto e pubblicato lui aveva già pubblicato la parlata dei martinesi bene con Agostino Convertino abbiamo organizzato una serie di puntate per parlare proprio del dialetto martinese e la cosa tra l'altro organizzata da Agostino Convertino era simpatica anche perché c'era l'avvocato Marangi da una parte che faceva un po' una sorta dell'insegnante Agostino Convertino faceva un po' il conduttore moderatore della cosa dall'altra parte c'erano degli amici che facevano un po' gli alunni e Agostino Convertino ha raccontato a me e ad Antonio che c'era stato riscontro di questa cosa e addirittura qualcuno si era commosso e Agostino Convertino può essere testimone di questo per gente di Martina che era andata fuori da Martina lontano magari che si trovava dall'altra parte del mondo che si era addirittura commossa risentendo la parlata dei martinesi sono un dialetto martinese perché loro erano andati via abbastanza giorni quindi non parlavano più il martinese nemmeno parlavano con i figli perché i figli erano cresciuti lì o addirittura nati anche via lì e quindi risentire questa cosa li aveva veramente commossi e anche questa è una cosa che ci ha fatto molto molto piacere allora diciamo spinto ad andare avanti ma noi continuiamo ad andare avanti esattamente anche effettivamente abbiamo realizzato alcune prove di campionato italiano la pista di Lopertone una prova che abbiamo condiviso anche poi con la federazione italiana che è stata un campionato italiano di marcia marcia su strada quindi insomma gli eventi ne abbiamo fatti e mi auguro che ne possiamo fare ancora però come dicevi tu sempre in collaborazione con le altre associazioni questo è stato un filo conduttore per noi dall'inizio noi abbiamo, credo a memoria, pochissimi identi da soli come associazione comunica molto 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 spesso in collaborazione adesso mi viene in mente per esempio tutte quelle che erano le prime associazioni con cui abbiamo collaborato più recentemente ma da tempo con Castro ma credo con Amore per Martina nell'estate scorsa avete realizzato qualche presentazione di libri quindi questo progetto continua deve continuare sì, assolutamente io tra l'altro volevo cogliere l'occasione per dire che il maggio dei libri quest'anno ha proposto come slogan diciamo così se leggo scopro noi invece oggi abbiamo scoperto la storia dell'associazione comunica che non è scritta da nessuna parte diciamo quindi ogni tanto è bene anche diffondere queste notizie, questi aneddoti per ricordare che ogni entità, ogni associazione ha una storia quindi bello e ti ringrazio Walter per questo tuo intervento di stasera grazie a voi dell'invito, sia del primo coinvolgimento e di questo e ci auguriamo ripeto di continuare ancora di proseguire ti ringrazio e anche a nome di tutti coloro che seguono libri streaming voglio dirti questo il sostegno dell'associazione è imprescindibile quindi grazie di tutto proseguiamo, proseguiamo su questa strada assolutamente proseguiamo, grazie a voi e grazie a tutti grazie Walter, grazie buonasera a tutti buonasera grazie a tutti